Cercando di portare degli esempi, di raccontare fatti di storia vera, storia vissuta, facendo capire che la legalità è il pilastro dello Stato, perché altrimenti senza legalità lo Stato si sgretola. Lo Stato può vivere senza benessere, anche se vive male, ma senza legalità si distrugge. Quindi la legalità interessa pure loro, è interesse dei genitori, è interesse dei cittadini ed è interesse della collettività perché con la tutela della legalità si combatte con la corruzione, si recupera del danaro da destinare ai bambini, ai lavoratori, ai meno abbienti. Quindi il discorso della legalità è fondamentale per i bambini, però facendo capire che la prima carta da rispettare è la Costituzione Repubblicana, che contiene degli articoli che devono essere rispettati pure dai parlamentari nazionali, regionali e provinciali, dagli amministratori locali. C'è un articolo bellissimo della Costituzione, un articolo 54, che dice che tutti i cittadini devono rispettare la Costituzione, ma coloro che rivestono cariche pubbliche le devono rispettare con disciplina ed onore. Quindi questo punto di riferimento è importante, che è questo fatto della legalità costituzionale che rappresenta la prima forma di legalità. La verità non è ancora del tutto venuta a galla per quanto riguarda le stragi. Noi abbiamo bisogno di verità, perché senza verità non si rifonda lo Stato. E queste stragi si rischia ancora di vederle commettere, perché purtroppo hanno segnato la storia, non negli ultimi anni, dal 1969, dalla strage di Piazza Fontana. Quindi stiamo facendo di tutto per far conoscere la verità ai cittadini, agli studenti, ai giovani. In questo ho trovato anche molti amici della provincia di Salerno, che ci stanno aiutando a cercare la verità. È di vitale importanza, però mi preggio di salutare la Preside Marcello Domei, che ci ha dato e ci ha onorato di avere qui il giudice Imposimato. I bambini rappresentano il futuro, sono la linfa di tutti quanti noi. Quindi chi più del giudice Imposimato può trasmettere questo momento di gioia, ma nello stesso tempo di dare un impulso di educazione legale, che è molto importante e soprattutto è da esempio rispetto a tutto quello che oggi si sente. Ripeto un ringraziamento doveroso all'Istituto Sacro Cuore di Torrione, ma in particolar modo Marcello Domei, la Preside, e Madre Superiore di Fonzo Beatrice. Grazie. Che è voluto da 14 anni. Perché lei mi ha invitato. Volevo chiedere, raccolgo l'invito da parte del giudice, di istituire, sempre che ci siano le condizioni e i presupposti, del difensore civico per i minori, visto che a livello nazionale non c'è di grande importanza, e Salerno si propone anche in questo. Doveroso anche l'augurio da parte dell'amministrazione comunale nel nome del sindaco Vincenzo De Luca.